Sono felice di aver pubblicato Notario di Marco Ercolani, Aforismi 2015-2021, nella collana di Sensi a cura di Donato Di Poce. Si tratta di un libro che, seppur di aforismi, spesso ricalca la struttura dei pensieri di Blaise Pascal e lo ritengo un vero e proprio lavoro di ingegneria psichiatrica, nel senso che l'autore, attraverso il suo io narrante poetico, è riuscito a moltiplicare questo io e trasformarlo in tanti io che spiegano come l'uomo si muove nella realtà e nella sua relazione con gli altri. Veramente un lavoro incredibile che soprattutto ci permette di scendere nelle profondità della nostra anima e scoprire ciò che non va e a volte ciò che può ancora portarci alla luce, nonostante l'oscurità dilagante.